Li avevamo visti tutti quei video che riprendevano delle scene di bullismo qualche tempo fa qui a Campobasso e di recente hanno fatto scattare 11 denunce. Noi vogliamo approfondire questo fenomeno che sembra fino a qualche tempo fa non se ne parlava e lo vogliamo approfondire con il questore Giancarlo Conticchio di Campobasso che salutiamo. Buonasera. Buonasera. È un fenomeno che non si sentiva parlare fino a qualche tempo fa, però che registra dei numeri. Voi avete addirittura una app per le persone che sono in difficoltà. Sì, l'applicazione è YouPoll che consente di denunciare in forma anche anonima episodi di bullismo, di violenza domestica e di droga. Quanti ne avete registrati finora? Nel 2021 abbiamo avuto 10 casi, in questi primi due mesi due casi. Tutti vengono attenzionati dalla sezione specializzata della squadra mobile. Bene, a quest'ora noi le chiediamo di restare con noi perché insieme vorremmo vedere delle testimonianze che ha realizzato Laura Calfapiere. Sono delle testimonianze dirette molto forti di giovani. Vediamole. Io vengo a prendere il mio nipote proprio a posto, vengo con la macchina, abito qua vicino proprio a posto per queste cose qua. Perché ha paura che possa essere vittima di bullismo? E come no? Orario di uscita da scuola da uno di tanti istituti della città capoluogo di regione. Ci sono parenti in attesa di nipoti e figli e ci sono i ragazzi. Conosci qualche compagno che ne è stato vittima? Sì, a scuola ne abbiamo parlato, anche hanno raccontato la loro storia e abbiamo cercato di consolarli. Che lezione traete dal racconto dei vostri compagni vittima di bullismo? Di essere forti, di ogni cosa che succede, parlarne con qualcuno di più grande e così da prendere provvedimenti e appunto di parlarne con persone che poi sanno come affrontare questi argomenti. Io stessa sono stata vittima e è stato difficile superarla, però pian piano ce l'ho fatta. Per fortuna ora non ci sono più casi, anzi più che altro aiuto persone che ne soffrono di questo. Tu sei stato oggetto di bullismo verbale o fisico? Più verbale che fisico, fisico poche volte, anche io molto verbale. È stato brutto perché i professori anche non se ne sono molto importanti, il successo alle medie è brutto quando neanche i professori se ne importano più di tanto. L'avevate detto? Sì. E non siete stati ascoltati? Esatto. Questo ragazzo mi ha bullizzato e diciamo che siamo riusciti anche a parlarne, fortunatamente, in tempo. Lui poi ha capito quello che sta facendo? Sì, alla fine sì, ha capito e è cambiato anche, sì. In molte scuole sono attivi i progetti di sensibilizzazione e di supporto, ma il bullismo va oltre le mura di una classe. Ne parliamo con due studenti maggiorelli. Adesso il bullismo non è più fisico, ma si è spostato più sui social, diciamo sul mondo dell'internet. Quindi il problema ormai non è più a scuola, ma è quello che accade dopo scuola. Che cosa vi sentite dire in base alla vostra esperienza di vita? A chi fa il bullo? A chi fa il bullo è domandarsi perché lo fa, cioè che cosa ha passato e eventualmente parlando con qualcuno di più grande rispetto a lui. E se la stessa cosa accadisse a te, come ti sentiresti? Io direi al bullo di mettersi al posto del bullizzato e di provare a capire cosa lui sta provocando all'altra persona. E un ragazzo che invece ha subito, cosa gli diresti? Sì, che deve sempre parlarne, non deve mai occultare la cosa e quello che gli succede perché non è lui dalla parte del torto. Sono parole forti, quelle che abbiamo appena sentito vengono da parte dei giovani, chiedono di essere ascoltati. Allora quest'ora noi le chiediamo quanto la polizia riesce a contrastare un fenomeno e quanto è importante però la vicinanza della famiglia, della scuola? Il punto di partenza è proprio la capacità di ascolto. Noi dobbiamo essere in grado di capire subito il malessere, capire subito il disagio. E noi come Polizia di Stato chiediamo la collaborazione dei cittadini e il lavoro deve essere un lavoro di rete. Non è un problema soltanto della polizia e quindi delle forze di polizia. È un problema che deve coinvolgere tutte le agenzie del controllo sociale. Quindi intende come agenzie quali potrebbero essere? Le famiglie, la scuola, la chiesa, l'associazionismo. I genitori devono fare la propria parte, non devono assolutamente scaricarsi della loro responsabilità.